Il concetto di limite infinito per x che tende a un valore finito è un'idea affascinante che ci permette di esplorare il comportamento estremo delle funzioni. Immagina una funzione che esplode o precipita mentre ti avvicini a un punto specifico sulla retta reale. Questo è esattamente ciò che cattura questo tipo di limite. In questo scenario stiamo osservando cosa accade a una funzione f di x quando x si avvicina a un valore particolare che chiamiamo c. Tuttavia invece di avvicinarsi a un valore finito i valori della funzione crescono o decrescono senza alcun limite. Per visualizzarlo pensa a un grafico dove man mano che x si avvicina a c la curva della funzione sale verso l'alto o scende verso il basso sempre più rapidamente come se stesse cercando di raggiungere il cielo o di sprofondare sottoterra. Non importa quanto in alto o in basso guardi la funzione alla fine supererà quel punto mentre x si avvicina a c. Formalmente diciamo che il limite di f di x è positivo infinito quindi più infinito quando x tende a c se per ogni numero positivo m per quanto grande sia possiamo sempre trovare un intorno di c escludendoci stesso in cui tutti i valori di f di x sono maggiori di m. In modo simile il limite è negativo infinito quindi meno infinito se i valori di f di x alla fine diventano più piccoli di qualsiasi numero negativo dato. Questa definizione cattura l'idea di una crescita o decrescita illimitata. Non importa quanto alta o bassa fissiamo la soglia la funzione alla fine la supererà mentre ci avviciniamo al punto c. E' importante notare che questo comportamento può verificarsi anche se la funzione è definita nel punto c stesso. Il valore della funzione in c potrebbe essere un numero normale o la funzione potrebbe non essere nemmeno definita in c. Ciò che conta è il comportamento della funzione nelle immediate vicinanze di c. Questo tipo di limite è cruciale in molte applicazioni. In fisica potrebbe descrivere situazioni in cui una quantità cresce enormemente in prossimità di un evento critico. In matematica è fondamentale per comprendere il comportamento di funzioni come 1 su x vicino a 0 o tangente di x vicino a pi greco mezzi.